Pronto? Ambulanza? Correte subito! Vera non si sente bene! È un'emergenza! Fate presto, presto! Vera ha la febbre alta e non mangia da dieci giorni! Forza, Veruccia! Bevi il brodo caldo! E al pollo! Mamma mia, come sto! Non mi sento per niente bene! Se mangi tutto, ti sentirai meglio! Ma il dottore, quando arriva? Arriva, arriva! Non preoccuparti! Poi, questo brodo non mi piace! Perché mai? È così buono! L'ho preparato con tanto amore! Io voglio il pollo arrosto! Ma cosa dici il pollo arrosto? Quando una persona sta male, non mangia queste cose! Mangia cose leggere! Basta, non ne voglio più! E questo cos'è? È una bella benda fresca ai cetrioli! Ti aiuterà a far scendere la febbre! Ecco, la poggiamo qui, sulla fronte, e vedrai che fra poco ti sentirei meglio! Da brava, bevi la medicina! Non la voglio la medicina! Voglio il cetriolo! D'accordo! Ecco una bella fettina di cetriolo per Vera! E anche un pezzo di carota! Accidenti! Quanto scotti, Vera! Ecco a te un bel pezzettino di carota fresca fresca! Buona? Sì, buona! Gustosa! E adesso è ora di riposare! Mettiti qui, calda, coperta, e vedrai quando ti sveglierai, sarai sicuramente meglio! Buonanotte, Vera! Buonanotte, mamma! Buon dì, tesoro! Come ti senti stamattina? Molto meglio, mamma! Sono contenta! Il protocollo ti ha fatto bene! Adesso giochiamo! Ti va? Ad acchiappa il premietto! Clicca like per vedere altri video di Vera!